Ciao, benvenuto a questo nuovo video post, questa volta dedicato al concetto di scelta e alla sofferenza che è legata appunto alla decisione, alla direzione che si vuole prendere ogni volta che si intraprende una scelta. È importante valutare questo concetto perché il nostro essere profondo, che si trova in una dimensione reale e si trova a essere completamente indiviso, non è suscettibile delle virtualità e delle divisioni, degli opposti, dei contrasti del mondo del divenire, quando deve estrinsecarsi in questo mondo comincia a separare delle parti di sé. Questa proiezione delle parti di sé implica appunto una divisione. Per cui il concetto di divisione, il concetto che noi abbiamo interiorizzato di divisione è proprio legato al fatto che essendo esseri indivisi ogni volta che esercitiamo una divisione o comunque visualizziamo, proiettiamo nel mondo virtuale una divisione, cominciamo a soffrire. La scelta quindi all'interno del mondo virtuale, tutte le decisioni che si prendono all'interno del mondo virtuale sono separative perché non fanno altro che direzionare le possibilità dell'essere profondo in questo mondo del divenire. Quindi essenzialmente alla scelta è legato il concetto di divisione e quindi di sofferenza. Però bisogna calcolare anche questo presupposto che il nostro essere profondo ogni volta che proietta una parte di sé, ogni volta che stacca una parte di sé e la proietta nel mondo virtuale ha necessità di comprendere tutte le decisioni che questa parte di sé prenderà nel mondo del divenire. Quindi il concetto di comprensione è fondamentale per l'integrazione dell'essere e per la conoscenza che ha necessità di svolgere appunto l'essere profondo perché la sua esperienza nella sofferenza non fa altro che fargli capire necessariamente che questa parte divisa è una parte che gli serve per compiere una determinata esperienza e per conoscere sé stesso. Ora abbiamo a questo punto due tipi di scelta. Una scelta che viene compiuta nel mondo virtuale è una scelta che viene compiuta nel mondo reale dall'essere profondo. Come vediamo abbiamo ancora questa dualità. Abbiamo il protagonista della vita e il suo specchio, il suo riflesso nello specchio. Nel riflettersi, se ci si identifica con il gestore delle informazioni dello specchio che è appunto la mente e la mente ha i parametri dello spazio e del tempo, vediamo che tutte le decisioni che verranno prese mentalmente sono decisioni che provocheranno una sofferenza all'essere profondo. Perché avviene questo? Perché la mente ha necessità di estrinsecare, di decodificare le informazioni che arrivano dall'essere profondo. Solo che la mente è limitata a livello coscienziale rispetto all'essere profondo che ha una visione d'insieme stabile e immutabile. La mente vive nel mondo del divenire, la mente divide. Quindi la mente provoca la divisione, la scissione e la mente non fa altro che generare questa sofferenza. Se ci si identifica però con questa divisione e non si comprende che è solo un processo cognitivo dell'essere profondo, noi ci troviamo a vivere la scelta come separazione, quindi sofferente. Perché la viviamo semplicemente in maniera inconsapevole. Nel momento in cui ci rendiamo conto che una scelta, una decisione, un focus che prendiamo, una direzione che prendiamo, che ci allontana da una precedente, e quindi questo distacco, questa distanza che noi diamo quando scegliamo nel mondo del divenire, è una scelta che implica sofferenza necessaria alla conoscenza. Ma è una scelta ancora legata al mondo virtuale. La caratteristica fondamentale è che se ci si rende conto che in realtà la vera scelta non la fa la mente, che interpreta l'essere profondo, ma la fa l'essere profondo, a quel punto non si vive più la sofferenza, non si vive più nella prospettiva della sofferenza. Perché non si vive più nella prospettiva della divisione. E soprattutto ogni volta che ci troviamo in difficoltà e siamo identificati con la mente, perché è molto facile identificarsi con la mente, perché la mente costruisce la forma nel mondo virtuale. Ogni volta che noi ci disidentifichiamo e prendiamo consapevolezza, nel momento dell'acquisizione della consapevolezza, noi non soffriamo più. Che cosa succede però nel mondo virtuale? Che per evitare la comprensione, cioè la disidentificazione con la forma e con l'identificazione dell'essere profondo che è più stabile, che è indivisibile, noi operiamo un meccanismo di rimozione. E pensiamo che dopo aver preso una decisione, aver scelto un determinato percorso di vita, pensiamo di aver rimosso la condizione di sofferenza che quella scelta ci ha determinato. E diciamo è il tempo che sana le ferite. Molte volte per evitare questa rimozione non facciamo altro che scegliere il compromesso. Il compromesso non è una via di mezzo, è una nuova scelta che però implica sofferenza, proprio perché non c'è stata la comprensione. Si capisce da questo punto di vista che la scelta in realtà è una sola ed è stata operata già inizialmente dall'essere profondo, quando ha voluto estrinsecarsi in questo mondo, quando ha voluto esistere. Il concetto è piuttosto complesso perché noi pensiamo di avere visioni multiple della realtà proprio perché è la mente che ci dà questa prospettiva multiframmentata della realtà. Nel momento in cui invece noi siamo identificati col nostro essere profondo, il nostro essere profondo ha già preso una decisione che è quella di agire ed esistere, che è quella di fare, per cui il fare non è altro che comprensione, presa di coscienza di chi si è. E in questa prospettiva non c'è più sofferenza. Beh, ci vediamo al prossimo post. Ciao. Musica Musica Magro Musica Grazie a tutti.